Cari amiche e cari amici, chi ha già visto i due video pubblicati ieri sul Decimo Toro 2 sappia che li ho dovuti privatizzare per evitare denunce e chiusure del canale. Vi comunico però che ho intervistato Fra Alexis e l'intervista sarà pubblicata sul Decimo Toro 2 appena avrò finito di scaricarla e di metterla a punto. Dunque mi raccomando non perdete l'intervista importantissima dove sentiremo dalla diretta voce di Fra Alexis la sua disavventura e gli abusi da parte delle forze dell'ordine. Quindi vi do appuntamento al Decimo Toro 2, lascio il link qui sotto in descrizione. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo